Musica Appare inspiegabile il colpo di pistola che intorno alle 9.30 si è sparato in bocca il tenente colonnello Alessandro Di Martino, 44enne di Moncalieri, nel poligono di tiro della scuola di cavalleria, sito a Torre Veneri, sulla Litorania San Cataldo Frigole. Stando a una prima ricostruzione del fatto, quando l'ufficiale ha sparato, nell'area delle esercitazioni erano presenti altri soldati, i quali però sono stati colti alla sprovvista dal gesto e non hanno potuto impedirlo. Soccorso dai sanitari del 118, Di Martino è stato trasportato all'ospedale Vito Fazzi a Lecce dove è deceduto. Secondo chi lo conosceva, il tenente colonnello non aveva manifestato disagi, motivo per cui non si spiega la decisione di togliersi la vita. Il gesto sarà chiarito attraverso l'indagine che condurrà il sostituto procuratore della Repubblica, Carmen Ruggero. Associazione per delinquere di tipo mafioso, cessione di stupefacenti e contrabbando di tabacchi lavorati esteri, il tutto aggravato dal metodo mafioso. Queste le pesanti accuse mosse nei confronti di 12 esponenti della Sacra Corona Unita locale, arrestati alle prime luci dell'alba di oggi, nel corso di un blitz operato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Lecce, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Le indagini hanno appurato che la Sacra Corona Unita si sarebbe organizzata per un ritorno in grande stile grazie ad una Pax mafiosa siglata in carcere da vecchi e nuovi referenti, un patto di non belligeranza indispensabile anche per evitare le attenzioni degli investigatori. Lo dimostrerebbero anche alcune circostanze avvalorate dalle indagini, il fatto che all'interno degli istituti di pena si ricorre nuovamente ai rituali delle affiliazioni mafiose e che i due clan della provincia hanno di fatto raggiunto un armistizio mafioso. A quanto documentato, sono rimasti sempre attivi sul territorio i clan Buccarella-Campana, operativo su Brindisi, e quello Pasimeni-Vicentino, operativo su Mesagne. I dettagli sull'operazione sono stati illustrati in una conferenza stampa preseduta dal procuratore della DDA di Lecce, Cataldo Motta. Si cercano ulteriori indizi per cercare di fare piena luce sulla vicenda della donna 52enne di Nardò rimasta gravemente ustionata e ricoverata nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Perrino di Brindisi. L'episodio è avvenuto la settimana scorsa nel comune Neretino. Il convivente della donna, un 42enne del posto, è formalmente indagato in stato di libertà per tentato omicidio e atti persecutori. Tutto sarebbe avvenuto dopo un violente litigio, l'ennesimo a quanto pare, visto che la coppia litigava spesso ma questa volta la discussione sarebbe finita in tragedia. L'uomo potrebbe aver avuto un raptus e, accecato da pura follia, avrebbe cosparso liquido infiammabile sul corpo della donna per poi appiccarla il fuoco. Le fiamme hanno avvolto la donna trasformandola in torcia umana. È stato l'uomo ad avvertire la polizia, dichiarando che si sarebbe trattato di un incidente accaduto mentre accendeva il camino. La donna è stata poi trasportata in ospedale dagli operatori del 118 intervenuti sul luogo della tragedia. Gli accertamenti diagnostici hanno rilevato ustioni di primo e secondo grado al volto, alla testa, al tronco e agli arti superiori. La prognosi è riservata. Gli investigatori hanno iniziato un dettagliato lavoro di ricostruzione della vita della coppia. Al momento non vi sono testimoni e questo non facilita la dinamica del gesto sconsiderato. Si chiama Puglia, you are welcome, destination Baku, ed è un nuovo piano di sostegno al territorio e alle sue eccellenze produttive promosso dalla Camera di Commercio di Lecce. L'iniziativa è rivolta alle aziende agroalimentari, agroindustriali e manufatturiere pugliesi che vogliono valutare le possibilità economiche offerte da un importante mercato emergente. Il progetto è stato presentato questa mattina presso la Sala Conferenza della Camera di Commercio di Lecce. L'Azerbaijan rappresenta una delle economie emergenti dei prossimi anni e la sua capitale, Baku, dal 2015 ospiterà una serie di eventi culturali e sportivi internazionali. Tra questi spiccano la prima edizione dei giochi olimpici europei che si terranno nel mese di giugno del 2015 e a seguire il Gran Premio di Formula 1. L'idea di organizzare una missione imprenditoriale in Azerbaijan è frutto di valutazioni economiche e di potenzialità di business per le aziende pugliesi rispetto non solo a questi eventi sportivi ma anche rispetto a quelli che sono i dati ufficiali relativi ai volumi di interscambio tra Italia e Azerbaijan. Una mission che rappresenta per le aziende salentine un'importante opportunità per aprire nuovi mercati ai loro prodotti, soprattutto nel momento attuale in cui il mercato interno italiano è ufficialmente in deflazione. Un altro elemento che ha spronato i fautori del progetto è il desiderio che la Puglia possa essere tra le prime regioni a conquistare una fetta di mercato importante in Azerbaijan e a posizionarsi come leader nell'esportazione di prodotti agroalimentari, vinicoli e agroindustriali di eccellenza. Riparta anche quest'anno a Lecce Itinerario Rosa, una rassegna culturale dedicata alla donna che mira a valorizzarne il ruolo sociale e culturale. Giunta alla sua diciassettesima edizione, la manifestazione prevede per diverse settimane nel corso della prossima primavera numerosi percorsi al femminile che caratterizzeranno l'offerta culturale, sociale ed artistica dell'amministrazione comunale. Utilizzando contesti di grande prezzo storico ed architettonico della città verranno coinvolte numerose associazioni femminili operanti sul territorio. A renderlo noto l'assessore Luigi Cocrite che invita tutte le associazioni interessate a prendere parte all'incontro che si terrà il 31 gennaio prossimo presso la sala conferenze dell'ex conservatorio Sant'Anna dove verranno presentati laboratori, fiere, spettacoli, convenni e dibattiti in progettazione. Itinerario Rosa riscuote anno dopo anno sempre maggior successo e rientra oramai negli appuntamenti annuali delle politiche culturali del Comune di Lecce. Tutti gli interessati possono offrire il proprio contributo alla programmazione dell'edizione 2015 presentando le proprie idee e progetti presso l'assessorata alla cultura entro il 31 gennaio. Nasce a Lecce SOS Animali Chiunque volesse segnalare casi di maltrattamenti o abusi sugli animali da ora in poi potrà farlo chiamando un numero verde l'800-101-108 Questo nuovo servizio è frutto di un accordo tra l'assessorato all'ambiente del Comune di Lecce diretto dall'assessore Andrea Guido e la sezione leccese dell'associazione Ampana Onlus Lo sportello UDA, vale a dire Ufficio per i Diritti degli Animali nasce proprio per garantire una serie di funzioni informazione e consulenza alla cittadinanza sui temi legati al benessere degli animali segnalazioni riguardanti maltrattamenti, smarrimenti e ritrovamenti raccolta delle istanze presentate dai cittadini e dalle associazioni presenti sul territorio interessate alla tutela degli animali progetti legati alla salvaguardia delle razze di animali e ancora divulgazione alla cittadinanza in particolare ai possessori di animali di informazioni e disposizioni amministrative riguardo le corrette norme di disciplina e detenzione degli animali interventi volti a incentivare l'adozione dei cani presenti presso il canile e i rifugi convenzionati realizzazione campagne di informazione e sensibilizzazione lo sportello è attivo al secondo piano della sede comunale di via Lombardia a Lecce mentre il numero verde sarà operativo 24 ore su 24 Colpo di scena nel Gallipoli nemmeno il tempo dei rallegramenti per la bella prova della squadra giallorossa contro il Bisceglie e già finisce l'idilio con l'allenatore Gregory Inglese che la scorsa settimana è subentrato a Sergio Volturo la rottura fra il mister e il club Ionico recentemente passato nelle mani di Sandro Quintana e della famiglia Calvi è stata consensuale al posto di Inglese arriva Raffaele Quaranta di Poggiardo calciatore cresciuto nel Bari ha giocato nel Monopoli, nella Fidelisandria e nella Pro Italia Galatina e ha vestito fra le altre la maglia del Pisa e quella del Casarano Quaranta ha maturato una esperienza varia come tecnico avendo allenato fra le altre l'Andria in Serie C1 e la Gioventù Campi in prima categoria e oltre a guidare il Novoli ha allenato nella seconda divisione della Slovacchia è un momento delicato per il Gallipoli come dimostra un altro colpo di scena la sostituzione del direttore sportivo Silvio Allegro che la scorsa settimana appena insediatosi nel club giallorosso ha portato in riva all'Oionio giocatori importanti come Benedetto Mangiapane e il portiere Ugo Gabrielli e la punta Filippo Di Maira che domenica ha firmato il gol del definitivo 1-1 contro il Bisceglie Il Lecce ha ricominciato questa mattina a Squinsano gli allenamenti in vista della sfida di domenica prossima contro l'Ischia e Isola Verde in programma alle 12.30 in terra campana La partita valida per la diciottesima giornata del Girone C di Lega Pro sarà arbitrata dal signor Edoardo Paolini di Ascoli Piceno e sarà l'ultima del 2014 dunque l'occasione per lasciare sotto l'albero dei tifosi giallorossi un regalo gradito una vittoria necessaria per svelenire un ambiente deluso dalle recenti sconfitte contro Foggia e Martina Franca Quella di sabato scorso inflitta ai salentini dalla squadra di Mister Ciullo ha scatenato anche l'ira del presidente Savino Tesoro che ha accusato lo scarso rendimento di alcuni giocatori una nota di gioia sarà portata nell'ambiente giallorosso oggi alle 18.30 dall'incontro che si terrà nel teatro Antoniano di Lecce fra alcuni giocatori giallorossi e i loro sostenitori per lo scambio degli auguri di Natale l'appuntamento è stato organizzato dalle associazioni di tifosi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti